L'e-commerce è un'opportunità incredibile che noi purtroppo in Italia stiamo perdendo. È incredibile perché il mondo sta cambiando molto velocemente e chi ha buone idee e buone capacità ha di fronte a sé la possibilità di allargare tantissimo il mercato, di cambiare completamente i modelli di business, di diventare molto più innovativo e anche competitivo. Perché poi quando ci si lancia nel mondo dell'e-commerce da sé vengono informatizzazione, capacità di gestione del ciclo della qualità, del CRM, sono tutti circoli virtuosi. Purtroppo in Italia e anche in Fluminense Giulia non siamo particolarmente attenti a questo mondo. C'è bisogno di coinvolgere più giovani, più imprenditori innovativi e magari anche un po' le istituzioni che come ad esempio la Camera di Commercio hanno capito e stanno spingendo in questa direzione. Però è ora di capire che bisogna accelerare e andare in quella direzione.